Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere cosa c'è in questa magnifica confezione è della Gnos e è una marca che fa braccialetti molto simili a Pandora quindi con dei charm che vanno ad aggiungersi piano piano adesso direi di aprirla subito così vediamo che cosa contiene allora all'interno c'è questo sacchettino bellissimo con dentro un, penso che sia quello per pulire, una salviettina sì, è una salviettina per pulire i vostri gioielli poi qua dentro ci dovrebbe essere il bracciale mentre qua dentro i charm che ho scelto allora, vediamo un po' io ho voluto fare un bracciale a tema Halloween quindi vediamo com'è wow allora, ho scelto questo bracciale qua che ha questo teschio bellissimo e come charm vediamo un po' allora, ho scelto questi charm qui sono tutti a tema Halloween come vi dicevo e adesso ve li faccio vedere meglio quindi c'è questa zucca troppo carina quindi c'è questa zucca troppo carina che ha questa faccia troppo carina vedete che è ricoperta di svarosti poi abbiamo questo fantasmino troppo carino che ha tutti gli svarosti bianchi sul fondo che ha tutti gli svarosti bianchi sul fondo e un po' di meno a salire bellissimo che è questo poi c'è questo pipistrello con il cuore che sta appeso dal cuore quindi vola e ha tutti gli svaroschi neri sulle ali e due rossi per gli occhietti stupendo anche questo e infine questo cappello da strega con questa stellina attaccata troppo carina adesso direi di provare a metterli sul bracciale così vediamo come stanno se volete acquistarli anche voi con lo sconto con il codice GAIA avrete il 15% di sconto sul vostro acquisto e in info box vi lascio ovviamente tutti i link di tutti i charm e del bracciale così potete trovarli più facilmente eccolo qua allora guardate un po' come stanno bene tutti assieme direi che è proprio a tema Halloween è stupendo secondo me fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate lasciandomi un commentino qui sotto se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao